Lo sapevi che in Benvenuti a Zombieland? Nonostante interpreti un personaggio alla costante ricerca di Twinkies, Woody Harrelson è un crudista vegano e non mangia Twinkies, che contengono ingredienti come uova e grasso di manzo. Quindi, nella scena in cui Talasi mangia la merendina, la produzione ha realizzato un Twinkie crudivegano a base di farina di mais.